La regola principale è che se vede arrivare uno più veloce di te, gli deve lasciare spazio perché lui non vede dove sta andando. Abbiamo messo dei cartelli per rilevare il giro di boa, 5-10 metri prima del giro di boa e comunque ci sono delle persone al giro di boa che vi indicano il giro. Quindi andate tranquilli, la strada è libera, non ci dovrebbe essere problemi. Mi raccomando non vi fate male, si parte allo sparo del giudice. Pronti? Arriba dalla Vesiglia. Tra 10 metri si gira. Qua da me Paolo, gira, 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 gira. Vai Paolo. Tra 10 metri si gira. Alberto Spigliari da Verona. Vai Alberto, c'è da me, gira, gira, gira. Vai. Tra 10 metri si gira. Tra prato. Luca da me qua. Moreno si gira, tra 10 metri. Gira, gira. Moreno, Tommasi, Verona. Gira Moreno. Vai. Si gira un po'. Vai da me, qua da me, qua da me. Riccola Pobiani, vai da me. 10 metri si gira ragazzi. Riccola Pobiani, forza. Qua da me. Gira, 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 gira. Taglia, gira, gira. Gira. Vai Moreno. Vai Moreno. 2 atleti di casa, qua hanno uno solo di casa. Cristiano Ruttari. 10 metri si gira ragazzi. Hanno più a fare i ride in moto da 7-8 mila chilometri, vai in Australia. Però si diletta anche a fare il controllo. Vai Cristiano. Vai. 10 metri si gira. No, il primo al 100 anche, non manca. 10 metri si gira. La Bologna. Ma io non si mette qui, non lo dico. Mi raccomando che non vieni a Baltè. Vai Bogus. Brava, brava. Tra 10 metri si gira. Vai Cristiano. Carla, qua da me. Gira. La prima donna. Brava, tra 10 metri si gira. Brava. Eh, dai, il primo giro è fatto. Vai, guarda bene, gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Lui arriva, il 198 arriva. Vai, bravo, gira. No, arriva lui. Gira, guarda bene. Guarda bene, gira. 10 metri si gira. Oh, ma lì, queste cose qua sono poche cose. Gira, farà lì, gira, di solito fai il maratone e lì indietro. È vero? Vai, vai. Anche per te gira, farà lì, gira, 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 gira. Bravo, tra 10 metri si gira. Il secondo andremo di casa. Bravo. Tra 10 metri si gira. Vai. Anche il 196 arriva. Gira, guarda bene. Tu arriva. Vai, Patrizia. Vai, Moreno. Gira. È il 18 sotto. L'atleta numero 18 è un non vedente per chi non l'avesse capito. Bravo, Walter. Qua, 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 Nicola. Vai, Nicola. Vai. Paolo Zanta qua. Nicola, gira, Nicola qua. Gira, gira, gira. Gira qua. Vai. 1, 2, 4. Moro, Flavio. Gira di Boa. Ultimo giro. Gira. Ultimo giro. Bravo, grazie, scura. Hai impegnato. Gira. Bravo. Ecco, adesso che abbiamo preso il secondo giro. 3. Vai, Avvocato. Gira qua. 31 e 12. Sì, questo è più di un secondo giro. Vai, Cristian. Gira. Fermano. Ultimo giro. Ti vedo bene, ti vedo in forma. Gira, gira, gira. Sì. E poi la tua volta giro così te squalifico. più forte sin tu dovesse fare a fare, ma che là in fondo giro davanti. Bisogna i segnali davanti. Bravo Paolo. Bravo Paolo. Gira Elian, gira. Gira Elian. Marco gira. Sì, sì, 47, 18 Ah no, 34 Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Gira, 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 g Ultimo giro, è il primo Argento, Alferna. Chi senti a donna può fare l'alternato in doppia pista? Niente, 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 all'inizio ti ha fregato anche quest'anno. 27 arriva. Vai, vai Paolo, va di lato. Bravo, vedi tutti, ce l'hai. La prima esperienza, titolo italiano Sara. Bravo. Carla sei arrivata. Guarda, non sei di qua. Vai. Ah, beh, va bene, sono, ma è la prima volta. No, ma non è mica andata male. Vai, vai, anche. Brava. Mi sa che questa gira. 32, 43, 30. Paolo fa un altro giro. Questi fanno un altro giro, bene. Altro giro. Anche il 18 arriva. Il 19. Vai, bravo Roberto, vai, vai. Anche l'altro giro. Ok, ci sei. Ambra. Vieni, Ambra. Vai, Ambra. Bravissima. Bravissima, Ambra. Anche l'altro. Aspetti. Bravo. 35, un altro giro. Anche il 4 non mi pare. 35, un altro giro. Un altro giro. Basta, adesso sono tutti soltanto giro? Un'ora è 51. E' 52. Questi due arrivano, sono anche copia della vita. Vero? Ma l'uomo batte, battuto dalla donna che sta a giro. Sì, è serio. Vengo dal punto del cavallo. Vero a me. Il cavallo è il tuo passino. Vengo, vengo. Arriva anche Giorgio. Arriva Giorgio. Vai Giorgio. Vicepresidente della Fida. Le partenze. Vado il cavalliere. No, vado a Tritano. Arriva per la Fida. No, per padre ho fatto la mara più. Quanto hai fatto? 3 ore e 3 minuti. Basta, in porto. Quanto ho fatto Roma un mese a prima. Non fai la merda. E' arriva questo. Fai a gusto, grande a gusto. Fai a gusto. Bravo, bravo a gusto. Bravo. Benvenuti in mano. Bravo, bravo, bravo. Un altro pelo, un altro pelo. Ecco, bravo. Ok, grazie. No, 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 no. E' davvero, non siamo belli adesso? Ti bevi, sto d'arte. Tutte le foto dopo. Mi disto da questa mia funzione. Non c'è un gruppo musica mai d'ombre trovati. Tra finito mi parli. Maschili e femminili. E più i ragazzini. A me bastava partecipare, sai. E ti vai a casa così dalla medaglia d'oro. E la maglia nazionale. Un'altra medaglia. E vai. 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 Bravo. Bravo, Arthur. Acompanhiato da... Gênero. mi faccio un filmino mi faccio un filmino mi faccio un filmino Grazie a tutti